Dal gruppo Carmeli trovi le vetture usato first choice, il nostro usato garantito. Ognuna di queste viene sottoposta ad un attento processo di ripristino prima della messa in vendita. Come prima cosa viene effettuata la perizia estetica per evidenziare eventuali danni di carrozzeria. Successivamente viene eseguita una prova su strada per fare una prima valutazione meccanica. Solo le vetture che rispettano gli standard qualitativi di chilometraggio, età e stato di conservazione proseguono con i ripristini. Le altre vengono destinate alla vendita riservata agli operatori del settore. Le auto che superano la selezione proseguono il processo di ripristino con un'ulteriore perizia meccanica più approfondita in cui viene eseguito il tagliando di manutenzione e, in caso di necessità, vengono sostituiti tutti quei componenti necessari alla messa in sicurezza della vettura, come ad esempio gli pneumatici e le pastiglie dei freni. A questo punto vengono ripristinati eventuali danni di carrozzeria. La vettura viene poi lavata e igienizzata. L'auto è pronta per l'ultimo passaggio, è quello del set fotografico, dotato della tecnologia di ultima generazione. Le fotografie e l'esclusivo virtual tour vengono poi pubblicate sul sito gruppocarmeli.com. La vettura viene infine esposta nelle nostre sede di vendita a disposizione della nostra clientela. Scopri l'usato first choice, usato garantito. Grazie a tutti.